E' stato pubblicato il bando per l'accesso al fondo microcredito FSE Campania, piccoli comuni PICO, gestito da Sviluppo Campania S.p.A., che mette in campo risorse pari a 20 milioni di euro per finanziare programmi integrati di microcredito dei comuni, PICO appunto, rivolti a promuovere iniziative imprenditoriali di disoccupati, inoccupati, giovani, donne e immigrati, con lo scopo di contrastare i fenomeni di spopolamento, di difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese e promuovendo parallelamente la propensione dei territori locali ad attrarre nuovi investimenti. Possono presentare proposte i piccoli comuni con popolazione uguale o inferiore ai 5 mila abitanti. Ciascun comune può presentare un unico PICO, che potrà avere un dimensionamento massimo di 150 mila euro. I PICO prevedono incentivi rimborsabili, microcredito per un massimo di 25 mila euro, per il sostegno dell'imprenditorialità e l'accesso al mercato del lavoro. L'azione dovrà essere rivolta a sostenere start-up di imprese riconducibili alla gemmazione da imprese esistenti e attività imprenditoriali o di autoimpiego operanti nei settori indicati nel PICO e funzionali alla strategia del PICO. Gli incentivi rimborsabili, che saranno erogati ai beneficiari selezionati, saranno concessi nella forma tecnica di mutui chirografari, a tasso zero con durata di 60 mesi, mentre il rimborso avverrà in rate mensili con decorrenza di 7 mesi dalla stipula di contratto di finanziamento. Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 9 del 1 luglio alle ore 12 del 31 luglio.